Ti porto via tutto quando tua moglie diventa il tuo peggiore nemico. È il saggio economico più esaustivo ed avvincente che ho scritto nella mia vita. Era da tempo che era in gestazione questo progetto editoriale, finalmente quest'estate sono riuscito a raccogliere energie, ma soprattutto testimonianze e analisi di dati sul versante statistico che mi hanno reso possibile la sua stesura. È un'opera letteraria che non ha paragoni e concorrenti con l'attuale panorama editoriale italiano. Infatti è l'unico saggio socio-economico a matrice interdisciplinare in Italia. Mette assieme l'economia, la giurisprudenza, il costume e la società e fa comprendere come una persona di sesso maschile può rovinarsi la vita per aver sposato la persona sbagliata. Vengono messe assieme un'infinità di dati e analisi riconducibili ad interviste fatti con padri separati e divorziati, avvocati in pensione, investigatori privati, psicologi, sociologi, consulenti matrimoniali, agenti immobiliari, associazioni di padri separati e ovviamente per chiudere anche esponenti del mondo cattolico. Il libro è incentrato in nove capitoli. Il principale capitolo ovviamente spiega, narra tutto il fenomeno dal punto di vista statistico da quando è stata varata nel 1970 la legge sul divorzio. Poi, capitolo 2, le principali cause di divorzio in Italia sono 10. 3, il prima e dopo la sentenza Grilli che ha cambiato la giurisprudenza in Italia. 4, quanto costa veramente divorziare? Tanti si sposano sapendo che, ma tanto c'è il divorzio, sì, ma non si rendono conto che cosa significa divorziare fino a quando il divorzio, non si arriva alla sentenza di divorzio. La donna ragno, e qui non faccio anticipazione perché è il capitolo più avvincente di tutto il libro. 6, patri prematrimoniali o si accordi prematrimoniali perché in Italia non ci sono chi non li vuole e per quale motivo si continua ancora ad oggi a mantenerla come una non priorità nazionale. si capirà perfettamente dalla lettura quelle che sono le principali rilevazioni della giurisprudenza in tal senso. 7, l'indigenza dei padri separati. Come ti puoi ridurre con il matrimonio condotto con una persona sbagliata? le conseguenze non solo patrimoniali ma anche sociali, familiari e in tali casi salutari. 8, storie di divorzio italiani. Tra tutte le interviste effettuate con padri separati e padri divorziati ne sono state estrapolate. 5, che a mio modo di vedere sono quelle più esaustive e fanno comprendere come dall'oggi al domani un matrimonio felice possa purtroppo convertirsi in un incubo. Infine 9, divorzio SPA. Un mostro leviatanico che ha il solo scopo di distruggere più famiglie possibili perché ci si è resi conto che l'infelicità di una coppia in realtà rende felici migliaia di avventori che girano e si abbeverano a con divorzio SPA. Come potete vedere tra le citazioni ne trovate una che è riconducibile proprio a me. Il divorzio in Italia è ormai diventato una conclamata truffa femminista ai danni dell'uomo. Attenzione! Questo è un libro che dovrebbero leggere ovviamente tutti gli uomini sia sposati o non sposati i ragazzi che si devono maritare e così via discorrendo perché gli fa capire quali sono i rischi. È un libro che di fatto oltre che avere una valenza socio-economica è un libro anche di finanza personale perché ti fa capire se ti sposi con un determinato tipo di assetto patrimoniale le conseguenze a cui potresti andare incontro. Parentesi! C'è anche una parte dedicata alle criptovalute proprio perché possono rappresentare degli strumenti legali o leciti per segregare, proteggere una parte del vostro patrimonio quando l'ex moglie ha deciso di trasformarsi in alien. Il libro, il saggio, il pamphlet non è per questo rivolto esclusivamente a un pubblico maschile anzi anche ad un pubblico femminile per quale motivo? Perché c'è sicuramente una mamma che ha a cuore il futuro del proprio figlio e lo vuole mettere in guardia sul sposarsi con una persona sbagliata o sui campanelli di allerta che dovrebbe avere il figlio qualora frequenta una persona di sesso femminile con la quale ha pianificato di andare a sposarsi. Due, sorelle. Le sorelle che vogliono mettere in guardia i fratelli e che hanno a cuore proprio perché ci sono narrate all'interno del pamphlet tantissime caristiche di sorelle che arrivano in soccorso al fratello che ovviamente è entrato nel tunnel del divorzio. Terzo, nonne. Nonne che hanno a cuore il futuro dei nipoti ovviamente nipoti di sesso maschile che vogliono far capire guarda che se ti sposi con la persona sbagliata è questo quello che ti può aspettare. Si tratta in tali casi di rovinarsi la propria vita per il resto della propria esistenza. Di questo non se ne parla a sufficienza in Italia per quale motivo? Per il dilagare ormai che ha tutta l'ideologia nazionale nazifeminista anche nel nostro paese a causa di quella proclamata narrativa che continua a esacerbare gli animi soprattutto portando alla luce il diktat delle sacerdotesse del nazifeminismo italiano che sono ben conosciute e ben identificabili in tal senso. È un libro che dovrebbe essere obbligato alla lettura tutti quelli che sono di sesso maschile che hanno 18 anni per rendersi conto di che cosa significa sposarsi in Italia e a quali conseguenze pratiche si può arrivare qualora si vada in default. Tra parentesi il 70% dei matrimoni che vengono ricondotti negli ultimi tre anni va in default empiricamente parlando al terzo anno. Questo non è una statistica, è un monito, è un avviso, è un allarme sociale per questo motivo che all'interno del libro vengono sviluppate anche tutta una serie di considerazioni pratiche per la segregazione e la protezione del patrimonio qualora vogliate andare effettivamente a sposarvi rendendosi conto che nel caso di divorzio per l'uomo è una sconfitta al 100% senza poi dimenticare tutto il patimento che grava e graverà sui vostri figli, sulla prole. In definitiva il libro da oggi dove si può trovare nei migliori librerie italiane oppure anche su Amazon.it Io nelle prossime settimane farò dei vari firmacopie su alcune librerie prestigiose in Italia magari vedrò di annunciare il tutto tramite i miei canali social. Vi lascio con questo tipo di pensiero non ho dubbi che vi piacerà il libro se avete letto Padrone del tuo denaro se avete letto Duri e Puri se avete letto Bancarotta. L'unico dubbio che ho è quante volte andrete a rileggere il libro per tutte le indicazioni e la narrazione che viene fatta esaustivamente all'interno del pamphlet. Trovate in descrizione del video il link che vi consente eventualmente per chi lo vuole andare ad acquistare direttamente su Amazon o conoscere quelle che saranno anche le mie prossime attività professionali riconducibili a questo tipo di visibilità mediatica ossia far comprendere soprattutto alla popolazione maschile come oggi sia una priorità nazionale un'emergenza nazionale andare a risannare, a ribilanciare quelli che sono gli attuali disequilibri tra il sesso maschile e il sesso femminile che emergono in particolar modo proprio durante il divorzio. La legge del divorzio italiano ha 50 anni, 5 secoli statisticamente il libro fa comprendere come si è modificata sia la giurisprudenza e soprattutto le modalità di applicazione della giurisprudenza andando ad impattare purtroppo soprattutto sulla vita degli uomini o dei padri che oggi sono diventati di fatto il nuovo sesso debole.